tanto grazie di essere con noi non capita spesso di poter raccontare san leonardo insieme a uno degli artefici e dalle dolomiti che è uno dei territori più magici divino in assoluto sono tantissimi racconti il sole il freddo ci porti un po in quella in quella terra magica ma certo marco beh insomma intanto sono felicissimo anch'io sai tannico è un è un experience tutta italiana di cui siamo noi produttori anche siamo molto figli perché è un posto sta diventando un posto un po magico e io vengo da un posto molto speciale che le montagne poi sai come si dice in italiano nischi cacafone bella mamma sua no come si dice e quindi ogni ogni luogo d'italia un luogo speciale una penisola incredibile e nel nostro piccolo angolo nordico delle grandi montagne abbiamo dei racconti appassinanti appunto no queste enormi massi di roccia che svettano perché tu pensa che dove siamo noi siamo a 120 metri sul livello del mare il monte baldo arriva già a 1500 metri quindi in realtà sono dei blocchi di di sasso giganteschi non è proprio una valle quasi più un canyon direi perché sono siamo stretti tra il monte baldo e le due l'altopiano dei monti lessini in questa piccola valle si chiama appunto valla garina incastonata tra esattamente a metà strada tra verona e trento è un posto antico san leonardo più di mille anni di storia un monastero poi sai dove ci sono i monaci di solito la terra è stata scelta con cura no avevano una cultura una capacità di leggere la natura incredibile lo ritroviamo in tantissime produzioni italiane straordinarie quante abbazie chiostri monasteri hanno prodotto vini di nota che avevano un sapore non una storia poi anche da raccontare io dico sempre che in fondo un grande vino è il 50 per cento quello che trovi nel bicchiere e 50 per cento quello che circonda no sia l'ambiente che sia la storia il produttore non c'entra che sia antica o moderna la storia quello ne chiedono spesso a ma ti piacciono solo i vini che vengono da famiglie antiche o da luoghi antichi non è vero anzi ci sono posti inesplorati che sono diventati no magici negli ultimi 50 anni bolgheri presentano posti che raccontano storie pazzesche e noi abitiamo in questa valle molto verde perché veramente una giungla maggio soprattutto quando il momento dei dei verdi io lo chiamo momento deve che ce ne sono migliaia di differenti poi l'estate un po appiattisce i colori li fa diventare molto più omogeneo il verde ma in primavera questa incredibile varietà di verdi che ti lascia a bocca aperta queste nuvole così bianche questa luce così tersa che quella già della montagna che però già noi siamo proprio al confine tra il mondo mediterraneo quello della rodigarda delle pianure proprio della nostra italia diciamo no dell'idea dell'italia e quello più alpino già dei freddi della neve la luce è proprio una delle chiave di lettura più interessanti per il vostro territorio perché io ricordo questa grande verticalità appunto del delle pareti montuose cioè che una cosa incredibile però avete nell'anima del frutto il nettare del mediterraneo perché la maturazione comunque è generosa nel caldo guarda è caldissimo questi giorni l'estate bollente da noi 35 37 arriva fino a 38 39 gradi poi questi ultimi anni ci ha abituato anche a temperature importanti però poi la sera non ti dico che ti metti la copertina ma quasi siamo è veramente pazzesco un escalation impressionante poi quello che poi rende un po dico sempre puoi avere un'estate meravigliosa e un settembre brutto e fai un vino che è così così un'estate così così un settembre pazzesco e ti svoltano le carte in tavola cioè riesci a comunque a realizzare qualcosa di speciale io intanto che noi ci chiacchieriamo io apro questa bottiglia che abbiamo portato il nostro abbiamo voluto parlare un po del nostro cavallo di battaglia diciamo il vino per noi più quello a cui siamo più legati anche perché quello che ha reso l'azienda quello che è oggi il vino che ha creato mio padre negli anni 80 con la sua esperienza seguendo un po tutti i suoi sogni anche perché mio padre è una storia divertente che ti accenno rapidamente perché penso che sia interessante sono sempre frutto dei loro creatori no questo io ho la fortuna diciamo di portare avanti questa azienda di famiglia ma si deve assolutamente a l'opera il mio padre l'entusiasmo di papà la sua visione la creazione di questo vino che nasce appunto nell 82 ma papà invece nasce nel 38 a roma e dopo i bombardamenti mio nonno decise di trasferirci di trasferirsi a firenze perché appunto è la metà strada tra gli affari romani e gli affari trentini e e quindi si trasferiscono subito a firenze posso certo grazie è un onore è un piacere per me questo che ci beviamo oggi è il 2015 è quello diciamo che stiamo raccontando diciamo in questo in questo periodo e ti dicevo papà è un uomo molto particolare lui si aggrabbia molto quando lo dico perché lui non era uno studente modello era un ragazzino estremamente vivace con poca voglia di studiare mio nonno invece aveva fatto la prima guerra mondiale che un uomo tutto d'un pezzo mio nonno era del 1895 io non l'ho neanche mai conosciuto quindi veramente quasi un bisnonno direi lo manda subito in collegio all'età di 11 anni in svizzera dove gli danno un'educazione diciamo di quelle che non ti dimentichi modello acqua ghiacciata sui comodini la mattina non esiste l'acqua calda nei bagni insomma una cosa che non ti non te lo dimentichi mio padre esce di lì e mio nonno gli dice adesso tu studi enologia e non era un consiglio era un ordine era un ordine e ti dirò un ordine anche molto non dirà l'avanguardia ma fuori da un po da da tutto perché all'epoca e stiamo parlando di un altro universo però per gli anni 50 ancora queste famiglie aristocratiche no c'era l'idea l'avvocato la diplomazia caso mai gli studi medici ma enologia era una laurea un po fuori dai canoni no fuori dal mondo ma il mio nome era un grande appassionato di vino faceva anche dei discreti vini devo dire non lo dico io ma lo dicevano diciamo alcuni pochi articoli che esistevano all'epoca sul vino perché è una cosa questo interesse così straordinario verso questo nettare anche per la carta stampata è arrivato molto dopo diciamo decisamente molto più è molto recente molto recente fino agli anni 80 90 ancora eravamo si molto auguri della stampa e lui e quindi va intraprende questa carriera di enologo e lì veramente trova un po quello che la sua passione la sua vocazione ha studiato benissimo si è laureato in tre anni e poi mio nono gli ha fatto un'altra grande sorpresa che una settimana prima che lui entrasse in azienda convinto di venire finalmente a lavorare a casa aveva assunto un enologo e l'enologo era anche un mese più giovane di papà bene neanche a dire se aveva 20 vendemmie sulle spalle ecco giovanissimo e quindi insomma era molto chiaro è una lezione di vita di quelle dure però che poi si ritrovano nei vini nel senso che come dicevi te la persona che poi è dietro un vino la ritroviamo nel calice la campagna è gioia e dolore tanto impegno tanto sforzo tanta ambizione personale perché poi sul vino si viene sempre giudicati quando giudicano un vino che tu produci giudicano te dicano tutto il tuo operato e siccome ognuno può giudicare un vino perché in fondo ognuno ha un palato e nessuno ha sbaglia tutti hanno ragione per il livello dove sono arrivati poi poi ci sono i gusti no oltretutto è importante però ecco san leonardo mette più o meno tutti tutti d'accordo anche perché i riconoscimenti sono arrivati a 360 gradi su questo vino guarda io non posso diciamo che posso incensarmi o incensare la nostra famiglia devo dire che è un vino che ha avuto un successo enorme sin dall'inizio papà lo inizia a produrre nell'82 aveva piantato mio nonno era mancato nel 74 lui prima di questo aveva lavorato parecchio in giro per la toscana facendo consulenze in tante aziende in un mondo che era ancora molto poco dedito all'altro di gamma alta qualità facili tanto vino eri già un bravo produttore insomma questa era la vocazione del territorio l'abbondanza abbondanza era già sei riuscito a farne tanto era già un traguardo anche perché agronomicamente non era facile enologicamente però poi mio padre fa un incontro che gli ha cambiato un po la vita gli ha segnato un po il suo percorso con questo grande amico del nonno che era madre incisa della rocchetta lui viene chiamato appunto dal marchese incisa e va a lavorare a san guido dove il marchese stava sperimentando i suoi cabernet i suoi vini siamo nei primi anni sessanta ecco e papà lì ha imparato tanto da questo signore che è stato un uomo di grandissima visione un uomo coltissimo soprattutto ma che spazio la cultura vera no che poi si traduce in gusto in insomma in tutte le grandi qualità ma era un uomo che conosceva era bravissimo con i famosi cavalli no perché sì 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 questo famoso ribo esce dalle loro scuderie ma anche nel vino aveva una visione straordinaria stava sperimentando per il suo la sua creatura alla quale mio padre non ha mai partecipato personalmente alla creazione il padre non ha mai creato il sassicare ci tiene moltissimo che io lo dica perché quella è in merito del marchese incisa e poi magari forse anche di giacomo tachis che lo ha perfezionato in seguito ma la visione era quella di mario incisa da rocchetta ma mio padre lì scopre l'amore per il taglio bordolese perché il marchese incisa gli faceva assaggiare questi grandi bordeaux che all'epoca erano vini introvabili ma soprattutto non è come oggi che no c'è la possibilità di assaggiare tante cose tante cose tu mi dici provati questo devi pensare che questo è fatto così con la all'epoca erano in pochi quelli che avevano questo tipo di cultura e quindi il padre si innamora il taglio bordolese nel 74 viene a mancare mio padre e mio nonno lui rientra in azienda nel 78 pianta il cabernet sauvignon e nell 82 questa bella vendemmia in generale però per tutta l'italia crea il san leonardo con un miglioramento della tecnica enologica importante che oggi a dirlo mi sembra quasi uno scherzo ma all'epoca è stato un bel terreno nel senso che noi vinifichiamo ancora oggi ma già da prima della seconda guerra mondiale tutto in cemento piccolissime vasche di cemento da noi non sono mai entrati i libidi selezionati se non una volta per un esperimento che tanto hanno chiesto a mio padre e andò malissimo oltretutto quindi mio padre dopo di quello proprio non li vuole più vedere e questo ci tengo molto a dirlo perché è diventato difficile il riscaldamento e così via non è facile se è una cantina che dire artigianale dire poco abbiamo tre pompe in tutta la cantina tante scale di legno niente di selezionati niente raffreddamento nel riscaldamento sono rimontaggi a mano perché non c'è neanche lo spazio per meccanizzarli e questo da luogo da vita a qualcosa di unico non buono o cattivo questo lo lascio ai degustatori non però unico che oggi secondo me la cosa più importante quella cantina avrete anche il vostro patrimonio di lieviti che gli aspetti fondamentali quando ho ridipinto la cantina qualche anno fa ero terrorizzato perché io ho figure che sono laureato in economia e commercial quindi non non posso dire di avere una cultura se non quella che mi sono fatto un po sul campo e quindi ho letto tanto dei lieviti ero terrorizzato di pensare che rifare i muri le malte così perché era veramente messa un po male potesse in qualche modo andare a cambiare l'impronta del san leonardo che è quello a cui teniamo di più perché il nostro obiettivo non è fare il miglior vino possibile punto per fare il miglior vino possibile nello stile san leonardo che è la cosa più difficile perché non tutte le annate ti raccontano esattamente la stessa storia ma infatti è per quello immagino che alcune annate sono state saltate ne abbiamo saltate parecchie perché alcune per tanta acqua devi pensare anche una cosa che oggi è cambiato molto il clima una volta si andava a vendemmiare si iniziava alla fine di settembre si finiva agli inizi di ottobre addirittura al 3 al 4 ai santi insomma si arrivava mi raccontano i vecchi in campagna che le mani erano ghiacciate la mattina facevano i fuochi perché gli si ghiacciavano le mani a furia di toccare le cosiddette picche che sono i grappoli la mattina a novembre a san leonardo è prescritto tanto proprio avevano le mani ghiacciate cioè proprio mi dicevano ti facevano male con la forbice alla fine non riuscivi a tagliare oggi il clima è cambiato sicuramente no si è molto anticipato e diciamo anche vendemmiamo in maniera diversa oltretutto c'è molta meno uva di una volta quindi diciamo è più rapido anche se siamo molto attenti alla data di vendemmia perché quella davvero cambia una settimana in più una settimana in meno fanno cambiare tanto al via anche la finestra di vendemmia sarà quella giusta ampia quindi necessariamente cogliere rapidamente devi essere sul pezzo diciamo ecco e quindi insomma è un io ho avuto la fortuna di tra virgolette ereditare per fortuna mio padre ancora vivissimo e quindi gli auguro lunga vita perché un faro è sempre una guida ma diciamo da una quasi una ventina d'anni lo affianco e poi negli ultimi anni diciamo preso un po in mano la l'azienda sempre ripeto con la fortuna di avere lui avere un direttore che è cresciuto assieme a lui io direi intanto tanto io assaggio assolutamente di essere cresciuto no con gente che mi che mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora proprio nella missione di mantenere lo stile di questo vino perché questo è quello che noi dobbiamo fare migliorandoci all'interno di questi paletti che ci impone la nostra visione quindi siamo migliorati il mio padre ha fatto grandi diciamo siamo avanzati tanti in cantina agli anni 80 nei primi anni 2000 grazie a simoni tesir che sai potatori ma i maestri della potatura veramente eccezionali un po quello che loro hanno scoperto direi no perché questo modo di poter rispettando la fisiologia della pianta abbiamo lavorato nei primi anni 2000 tanto sulla fisiologia della pianta e oggi il nostro impegno si è spostato sul suolo io non sono un appassionato di divini biodinamici ma ringrazio sempre molto il movimento della biodinamica perché e dei biologici perché ha fatto ha messo ha acceso un faro non solo per i produttori ma soprattutto per la critica e quindi di conseguenza anche no perché poi se tanti produttori si adattano giustamente a quello che il mercato chiede il mercato è anche una parola degli appassionati richiedono che è sempre una cosa rispettare l'ambiente e quindi abbiamo noi siamo biologici abbiamo tolto tutti gli ebcd da tanti anni ormai sono decina d'anni e la nostra curva di apprendimento è ancora all'inizio direi perché è un mondo talmente vasto credo del suolo del micro fauna della microflora che credo che nessuno ne conosca ovviamente la totalità sarà impossibile per generazioni ma anche solo scalfire bene c'è talmente tanto mistero nel suolo è talmente tanta fascino e più tuteli il suolo più conservi anche la l'identità del prodotto questo è quello che vogliamo fare la cosa forse proprio bella del mondo del vino che in realtà ancora siamo agli inizi dello scoprire sia quello che il mondo delle fermentazioni che poi il suolo che appunto tuteliamo c'è c'è un universo dietro perché ripeto c'è c'è tanto sia dal lato dei libidi delle fermentazioni come dici te leggo perché ripeto noi non utilizziamo i libidi selezionati per i vini rossi vini bianchi lo facciamo ma li facciamo in un'altra cantina proprio il mondo di vini rossi è molto interessante ma sono appunto quello che a noi affascina ancora di più è la pianta unita al suolo quindi noi facciamo le nostre selezioni cosiddette massali cioè andando a selezionare quelle vigne che noi crediamo che portino nel loro patrimonio genetico il massimo della qualità del frutto del colore dei sapori dei profumi e del nostro ruolo selezionarle anno dopo anno vedendo la loro produzione andando assaggiare i chicchi di sono 10 20 vigne per ettaro e poi alla fine selezioni 50 e poi da quelle rifai riproduci cercando sempre di mantenere quell'identità perché poi alla fine di vini buoni ce n'è tantissimi diciamoci la verità sì meglio peggio io era una domanda un po sempre che come dicevi subentra anche una questione di gusto però me quello che colpisce nei vostri vieni soprattutto nazionale donardo è quelle identità forte e marcata no perché comunque un vino profondo e ritroviamo la vostra identità radicata all'interno del vino quindi riuscire a tra virgolette sfidare le annate rimanendo comunque saldi in sella forse questa è la vera sfida è la grandissima sfida guarda veramente soprattutto con un clima che cambia come questo perché è difficile è difficile il calore infatti per dirti negli anni 90 mio padre mi sembra fine anni 80 primi anni 90 mio padre inizio a fare i diradamenti no a fare un po di vendemmia verde chiamiamola così quindi tagliare un po di grappoli per far sì che la pianta concentra concentri no in quelli rimanenti le sue energie e oggi non li facciamo più pensa che all'epoca non venivano a lavorare i contadini non volevano perché era un tale sacrilegio comprensibilmente per una terra che aveva sofferto due guerre una la fame difficoltà enormi questi uomini che coltivavano la terra non potevano vedere buttato a terra il frutto del loro sudore e avevano ragione sono tornati a farlo quando hanno capito che questo portava al successo il vino e portava denaro finalmente sulle loro terre e dove si potrà rinvestire migliorarsi perché poi il vino è sogno e passione però poi ahimè è anche un lavoro no bisogna portare a casa il pane per poterlo rinvestire se no non non vai avanti è un sogno oneroso da matti decisamente sì e poi è spasmodico non si ferma mai di un'ambizione assoluta al vino perché si dice che ci sono tre modi di perdere i denari il primo il più divertente il gioco il più bello le donne il più sicuro la terra perché quando tu sei produttore che un po la differenza che cerco di spiegare ogni tanto quando sono all'estero mi chiedono io non sono un wine maker di lo dico sempre non sono bravo non sono neanche un grande gustatore mi piace da matti bere mi piacciono i vini da matti però sono un produttore che è una cosa diversa il produttore ama la sua terra il vino è il frutto del lavoro del produttore ma non è la sua ambizione unica l'ambizione è la terra stessa la sua bellezza il fatto che sia sana il andare avanti è qualcosa difficile a spiegare se non non la vivi ma le stagioni che ci lotti contro poi l'estate che ogni notte che c'è un temporale non dormi perché c'è l'angoscia che arrivi la grande nel vento prima i tralci sono piccoli allora il vento li rompe poi tre mesi d'estate che dovrebbero essere i più belli dell'anno infernali per me per dire immagino anche la fase della primavera del risveglio quando le temperature scendono che adesso poi questi ultimi anni le gelate stanno diventando una cosa brutta veramente in tutta europa perché abbiamo questi e no questi accendi primavera marzo pazzeschi bollenti ad un aprile pazzesco e poi fino aprile primi di maggio gelate in tutta europa dalla sardegna ci si no a l'inghilterra dove ormai insomma c'è una bella zona il mondo spumante in inghilterra ormai si sta fermando veramente veramente interessante molto i territori internazionali non usciamo dall'italia che più ti piacciono che più ti ti divertono male perché io proprio sono italiano fino al cuore marco io bevo l'italia al 99 per cento però mi piace dire sono appassionato poi amo amo talmente tanto questo paese con tutti i suoi drammi le cose io mi sento italiano fino all'ultimo capello proprio lo amo e adoro i suoi territori anche per la varietà incredibile che offre questo paese ma fuori dall'italia in primis direi lo champagne perché il champagne è talmente trasversale non puoi non amarlo sono dei vini straordinari sono dei vini dove poi ultimamente direi negli ultimi vent'anni anche lì no da uno stile che sono apparsi tanti 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 parlo di selos per dire quanto quanto ha fatto se loss almeno per un medio degustatore come me ci sono sicuramente altri personaggi che hanno influito ancora di più ma un selos per me mi ha fatto capire cosa c'era dietro altri modi di fare champagne poi la borgogna straordinaria bordeaux è un po quello che al quale ci avviciniamo di più anche se bordeaux ha subito negli anni 90 una concentrazione una ricerca un po della cosiddetta spalla nel vino un po esagerata forse perseguire un po una tendenza degli anni 90 a cercare vini un pochino più robusti e quindi sì ci sono produttori che apprezzo altri che apprezzo meno devo dire anche la sincera verità sono diventati talmente onerosi grandissimi che è un po una rarità e quindi li bevi quando vale la pena belli cioè li bevi quando hanno almeno dieci anni non ti vai aprire la bottiglia prima che sia perfetta perché può perdere un'occasione no non te la stappi a cor leggero 600 euro ma non avrebbe senso bisogna stare attenti insomma borgogna ide nel senso che anche lì è un territorio dove lì ci vuole un maestro forse anche una guida un counselor navigator tende a disorientare a confondere poi insomma borgogna è sempre patria di innovazione nonostante sia molto legata alla tradizione però cambiano a volte ti ritrovi comunque dei produttori che nel villaggio si stanno esprimendo in maniera incredibile e magari ti prendi il premier cru che un po è deludente per non parlare poi dei nostri sacri quando vediamo nei gran cubro effettivamente forse anche sull'italia il fatto di non essere facilmente leggibile è stato uno dei limiti no se il nostro nostro è un territorio ancora nascosto in gran parte diciamo no all'opinione pubblica internazionale anche se devo dire si è fatto talmente tanti i produttori io rimango sempre ammaliato affascinato dalla capacità di persone magari anche con estrazioni semplice non parlo assolutamente in termini snobbistici non mi appartiene quel mondo lì ma di estrazioni semplici magari veramente appassionati di terra che poi mano a mano sono diventati comunicatori pazzeschi della gente di marketing che hanno capito agronomi è multiforme il produttore io ho sempre grande penso sempre alla rinascita della sicilia negli anni 80 e 90 il marketing che è stato sviluppato dietro i vini siciliani no a parte la qualità senza dubbio ma mi affascina no questa essere così poliedrici come come gli italiani sono eccezionali poi ti dico l'italia è un paese dove ti permette di assaggiare tanto ha delle cifre molto contenute ti puoi sbizzarrire questo non avviene dappertutto almeno non avviene tanto in francia anche se c'è diciamo poi tutta una fascia media molto accessibile anche in francia però nella fascia media medio alta direi che l'italia non ha confronto ecco proprio cioè siamo facciate scalino in su questo concetto della biodiversità che veramente ti fa divertire perché fa spaziare con lo stesso vitigno hai tantissime assolutamente e l'italia per dirti sono affascinato ben primis dall'etna è un posto che dove ogni volta che ci vado vuoi prendermi un'azienda per poterlo vivere per poterci mettere le mani in quella terra nega e capire un territorio che poi mi spaventa anche nel senso che talmente potente come energia la senti e la senti è il vulcano idù lo senti ecco ma i loro vini sono strepitosi io li amo da matti questa bevibilità questa freschezza anche se anche questi colori mai neri un po scarichi mi affascinano molto mi affascina l'abruzzo per dire da matti poi territori molto purino ha molto puliti questa italia mi piace molto l'italia centrale da matti io sono più la toscana l'avamo moltissimo come vini soprattutto san giovese pianti a me piace molto ecco quel genere di vini lì quando sono eleganti perché questa per me è imprescindibile come qualità non è sempre semplicissimo lavorare in maniera elegante sul san giovese e non è semplicissimo affatto e anche lì ovviamente il caldo influisce in maniera determinante sulle annate la piovosità ovviamente lì poi c'è anche la capacità del produttore di interpretare soprattutto se quando si parla di produttore si parla sempre tanto di cantina ma è molto la terra qui che parla è perché il grande vino come dice sempre mio padre si fa in vigna non si fa in cantina io cerco sempre quando vengono gruppi americani o giapponese di spiegargli come michelangelo non avrebbe mai potuto scolpire il david se non avessi avuto un blocco di marmo e celso perché se non è buono il blocco non c'è per quanto tu possa essere bravo il tuo il tuo segno non sarà mai precisa è un po la stessa cosa nel vino se l'uva non è perfetta e non parlo di sanità perfetta dell'uva che abbiamo raccolto delle annate che c'era anche qualche tocco di muffa in alcuni grappoli abbiamo fatto i vini migliori di annate ma è dove no l'uva sembra dipinta sembra di plastica per quanto è perfetta quindi quello è diverso ma io dico proprio che la pianta abbia avuto un andamento regolare sia stata bene che non abbia sofferto esageratamente per la linea un minimo deve sempre soffrire diciamo un pizzico deve sempre arrivare l'inter la tensione che devi ritrovare il vino la devi sentire un po' tutto quello di cui parli come visione in generale in realtà nel san leonardo la ritroviamo perché comunque hai questa eleganza mostruosa e questa freschezza che riesce comunque a reggere una struttura importantissima quasi imponente ritrovi questo gioco tra tra la luce e il freddo tra il frutto e l'eleganza concentrazione ma mai esagerata e tra l'altro un gioco anche con tre vitigni che a volte vengono banalizzati ma voi avete trovato probabilmente l'incastro anche perfetto vengono banalizzati io ci ho riflettuto tantissimo ho sofferto anche tanto di un periodo difficilissimo che ha passato la nostra azienda perché è bello raccontare degli allori ma come dicevo prima c'è tanta sofferenza anche dietro alla produzione come tutti i mestieri poi non è che il vino sia unico c'è sofferenza perché ti metti talmente tanto in gioco però nel vino c'hai tante variabili di cui una incredibile che clima il nostro socio di maggioranza diciamo è al piano di sopra ma non possiamo contattarlo quindi è lui che decide quindi ti deve andare devi avere tanta fortuna ecco noi san leonardo è pure patrono degli agricoltori anche tra le sue varie quindi noi il cielo in chiesa ce l'abbiamo sempre di default ma è un eleganza è un punto d'arrivo per questi vitigni che secondo me sono stati un po banalizzati perché si è soprattutto negli anni 90 si è strapiantato il cabernet non trapiantato ma strapiantato in tutti i posti con un unico modello no quello di bordeaux due metri per ottanta o addirittura in alcuni punti uno per uno penso a franchetti no che fa dei vini però tanto di cappello vini straordinari però voglio dire si va da un estremo al lato di gente che però alcuni sanno veramente cosa stanno facendo altri che per me è un vitigno fantastico molto buono però non è che nasce ovunque bene e coltivato nella stessa maniera soprattutto questi vitigni qui quando produci troppa uva o troppa poca si scompongono facilmente tirano fuori caratteri o troppo vegetali o sul maturi devi trattarli con rispetto in un territorio che li accoglie nel modo corretto noi abbiamo la fortuna ma non è che siamo così bravi penso che sia la fortuna la visione sicuramente di mio padre di aver messo il caverne sovignon che ci mancava noi in realtà abbiamo il merlot dagli anni venti del novecento quindi ormai cent'anni diciamo si è cosiddetto all'octono che viene da fuori ma diventa si tramuta in autoctono ma l'ingrediente segreto no io dico sempre magic ingredient quando racconto agli stranieri quando vengono e il carmenè che è un po quello che da come sempre dice mio padre il sale al san leonardo che non è un vino salino ma il sale inteso a suo modo come quel sapore inequivocabile no quella quella marcia di di sapore e il carmenera arriva a san leonardo non ne abbiamo una carta precisa ma dovrebbe essere intorno al 1870 quando mio bisno mio tris nonno collezionava vini un po in tutta europa e aveva portato il riesling aveva portato il borgogna che non capiamo ancora se era chardonnay o era pino nero però abbiamo delle etichette con scritto borgogna proprio neanche pino nero cioè borgogna che si vedeva cioè marketing non è un'invenzione di oggi e e lui poi importò questo cabernet e questo lo sappiamo però poi venne chiamato cabernet franc in azienda e per cent'anni è stato il cabernet franc il cabernet come dicono da noi cabernet franc e mio padre negli anni fine 80 primissimi 90 intorno al 90 insomma doveva spiantare uno di questi vecchi vigneti di cabernet fro e chiama questo vivaista in francia che abbiamo da una vita ormai che è un uomo eccezionale che il pino nero di roman e conti lo fa lui il merlot di petrus lo fa lui il tempranino di rega sicilia lo fa lui e il cabernet di margot li fa lui un personaggio abbastanza unico al quale era anche difficile rivolgersi negli anni 80 per avere i vigneti perché era una superstar che vedeva un po chi voleva lui e mio padre c'era entrato in sintonia gli manda del cabernet franc e dopo due anni mio padre comincia a vedere al terzo anno è chiaro che questo è completamente diverso da quello che che avevamo noi in azienda il carmenet fa delle ciliegie il cabernet franc fa delle piccole bacche la foglia ha un disegno diverso e quindi viene giù lui e con attivio scienza papà scopre che quello che lui aveva sempre ritenuto essere il cabernet franc era in realtà il carmenet però avevamo cent'anni di esperienza sotto vitigno già e lo continuavamo a pergola semplicemente a pergola allora mio padre decide quell'anno di cominciare a sperimentare realmente allora lo pianta prima a cordone speronato e funzionò malissimo malissimo perché il carmenet era una pianta vigorosa ha bisogno a mille problemi quando fiorisce c'ha la cosiddetta collatura perché se non abbastanza la pianta che portare l'equilibrio è difficile o ti produce venti quintali a etro te ne produce 300 è tutto molto violento il carmenet e poi lo ritrovi nel vino perché un vino che anche in purezza esprime un carattere una singolarità davvero straordinaria e quello è diventato un po il leitmotiv di san leonardo che fino al 2010 e questa è una cosa che qualunque appassionato che mai non conosce perfettamente la storia di san leonardo dietro ma conosce le annate dice ma come guarda che era fatto il cabernet franc e c'ha ragione perché c'era scritto il cabernet franc fino al 2010 mio padre mi ha sempre detto ma cosa vuoi in quell'epoca uno non era consentito dai disciplinari cioè nella regione non esisteva quindi eravamo anche contro legge tra virgolette e poi dice carmenet prova a dire a uno che già il cabernet merlot erano dei vitigni carmenet sembrava più una parolaccia si sia un vitigno che potesse dare un tocco tra l'altro in italia è stato confuso spessissimo con il cabernet franc e con assolutamente come in cile con il merlot abbiamo un po la stessa evoluzione carmenet ha subito un po la stessa evoluzione è scomparso a bordeaux dopo la filossera perché probabilmente questo me lo dice sempre papà dice ma sai i francesi sono anche degli abilissimi uomini d'affari non produce acqua con se troppo costretto ma adesso un vigneto a 6 7 mila cppi per retro a 10.000 non ti fa un pifero e quindi tu alla fine devi anche portare a casa un po di uva perché sennò non è che non esistono solo gli alloghi se noi vieni allora si sei petrius allora va benissimo fare due vini due 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 bottiglie per filare ma sennò devi portare ci vuole un certo equilibrio anche produttivo e anche in cile fu ritrovato ma è sono solo trent'anni che hanno capito che carmen e prima anche loro pensavano fosse merlot insomma è una storia bella ma accomuna tante regioni anche nelle marche si è ritrovata comunque una bella presenza di carmener ma non c'era la consapevolezza ma ancora oggi ti dico lo piantano pochissimo da noi sono venuti tanti di vivaisti negli anni a chiedere papà poi che è sempre stato un uomo generoso che non ha mai chiuso le porte davanti a nessuno perché voleva condividere un po le sue esperienze ha fatto fare la raccolta delle marze cosiddetto cioè di andare a cercare i legni per sviluppare ma tanti vivaisti non lo vendevano non riuscivano a vederlo comunque impressionante anche i quasi 300 anni di storia comunque importate riportate dietro e in prospettiva quindi non parla soltanto di azienda ma proprio di famiglia dove vi vedete in futuro avevi citato il fatto che magari ti sarebbe piaciuto anche un discorso di spaziare su altri territori o comunque immagino che san leonardo abbastanza sia già affermatissima ma avrete in mente certo non puoi vivere senza sogni no io le ho non sono delle sogni sono un po delle ossessioni secondo me l'imprenditore è sempre un po ossessionato perché è quello che ti consente di andare avanti perché poi alla fine è difficile ma come tutti i mestieri ripeto non è che facciamo niente di così unico e irripetibile siamo gente che si impegna in qualcosa che si che gli piace molto sicuramente a me l'italia affascina ti ho citato due territori che a me piacciono da matti che sono l'abruzzo e l'etna non lo so se faremo mai il salto ad acquistare altre aziende attualmente io sono ancora in una fase dove sto un filo espandendo san leonardo non tanto il mio pensiero non è tanto rivolto a fare tante più bottiglie anzi avremo anche un calo nei prossimi anni perché abbiamo spiantato qualche vigneto quindi ci sarà un leggero calo anche perché sono vigneti in media di 35 40 anni quindi non voglio assolutamente intaccare anche pur minimamente la qualità la mia diciamo la mia ansia più grande sono le malattie delle vigne oggi questa è una cosa che si parla poco del mal del del lato brutto delle cose parla sempre di tutte le meraviglie della cosa quindi in realtà sto facendo tante bonifiche interito nei boschi e così per piantumare per avere dei luoghi che non hanno mai avuto prodotti di sintesi piantati con delle vigne non resistenti ma con delle vigne che sono state fatte per noi seguendo determinati protocolli qualitativi per cercare di dare una tranquillità produttiva cioè io vorrei avere il doppio di quello che produciamo in termini di uva e poterne vendere la metà tra virgolette no se vogliamo proprio perché voglio preservare la qualità cioè questo è il mio la mia ansia più grande e tra tempo che diventa matto malattie che sono un po una veramente un'ossessione perché non c'è rimedio da una malattia ancora mal dell'esca mal dell'esca è terrificante questa è un po vedere morire una pianta è un dolore è un dolore sempre adesso la flavescenza ci sono tante sfide per noi nel futuro quindi per ora sono ancora diciamo c'è ancora tante sfide dietro al san leonardo che ancora un vino da grandi appassionati non che io lo voglia cambiare anzi non ne abbiamo una necessità ma insomma può raggiungere traguardi di internazionali ancora più elevati sicuramente è un vino che ci ha donato negli ultimi trent'anni delle soddisfazioni incredibili abbiamo verticali fatte da tutti i più grandi giornalisti il mondo con apprezzamenti dove il punteggio non è mai il centro anzi si 96 97 98 benissimo ma sono i commenti che ci entusiasmano che ti danno che la voglia di mantenere quello stile mi ricorderò per sempre nel 2012 l'unigiana vacanza così a trekking e arrivò l'email con questo articolo sul financial times firma di jamesy robinson che descriveva non ho mai assaggiato in tutta la mia vita un vino come questo che ha mantenuto lo stesso sapore da quando è nato dice neanche più grandi bordolesi ci sono mai riusciti e questi sono quelle cose che ti ti danno quella quella voglia di decisamente riconoscibile nel momento in cui va nel calice ripeto la succosità del san leonardo è incredibile una succosità bella perché comunque questa nota fresca quasi mentolata a volte abbiamo un vino a 13 gradi alcol neanche 13 e mezzo 13 13 e 1 o alle volte 12 e 9 quindi per legge si scrive 13 è un vino che nasce dal 60 per cento cabernet sauvignon 30 per cento carmèner e 10 per cento di merlot fa questa fermentazione di 14 16 giorni al massimo in vasca il cemento quindi mai macerazioni esagerate non tutto cerchiamo sempre di fare tutto col massimo equilibrio ma lo lattiche in cemento alle volte le fa ottobre o novembre alle volte le fa a marzo perché diventa troppo freddo si bloccano roba che quando abbiamo gli stagisti e ne abbiamo sempre massimo due perché come dice il direttore ho due occhi due sono già sufficienti perché mi mandano poi testa impazziscono si strappano i capelli noi insomma siamo molto tranquilli due anni di barrique dove al massimo c'è un 25 per cento massimo massimo 30 per cento di legno nuovo il resto a due tre quattro anche cinque anni dove cerchiamo sempre no il legno non è mai qualcosa di separato è qualcosa di perfettamente fuso con il corpo del vino come dicono i francesi che sono i numeri 1 ancora oggi nel anche nel raccontare il vino noi diciamo l'affinamento i francesi dicono l'elevage che non è allevamento come alcuni pensano ma è elevazione che è una cosa perché la barrique quando c'è il vino è il vino giusto la barrique lo eleva davvero e quindi poi due anni almeno di bottiglia a casa aspettando di vedere la luce ma poi un vino che vive 30 40 anni insomma giusto per concludere penso che forse la parola equilibrio e compostezza sia veramente precisa perfetta per definire sia voi che san leonardo hai detto la cosa più bella è più difficile no perché oggi si parla tanto di eleganza tutto elegante ma hai ragione te e anche io lo dico spesso ormai l'equilibrio no questa è la cosa più difficile in assoluto a trovare anche perché l'equilibrio a volte dura un attimo no invece qui un equilibrio di prospettiva e per mantenere questo equilibrio pensi che piano piano avrete vieni anche un po più in quota considerando il cambiamento climatico sei tanto più in quota sia ci sia alzati i 100 metri non è una quota che cambia no noi abbiamo una fortuna che come ti ho detto prima è un canyon quindi il sole alle 6 6 e mezza 7 al massimo quei dieci giorni di fine giugno non c'è quindi già abbiamo un'ora un'ora e mezza il sole meno al giorno e un'ora un'ora e mezza in meno la mattina e vuol dire tanto sulla vigna in questo periodo quindi rimane molto in equilibrio grazie mille per la bellissima chiacchierata grazie a te veramente un piacere e grazie per il fantastico vino che portate nelle tavole di tanti appassionati grazie davvero grazie